5 cose che puoi fare grazie a Suzuki Connect parte 2. Se non l'hai ancora vista, trovi la parte 1 nel feed. Suzuki Connect è l'applicazione per smartphone che ti permette di rimanere sempre connesso e aggiornato alle esigenze della tua auto. Il servizio è gratuito per 3 anni ed è disponibile su S-Cross Hybrid. 1. Suzuki Connect ti permette di essere sempre aggiornato sugli spostamenti della tua auto. 2. Grazie a Geofencing puoi impostare l'area e l'ora in cui essere informato tramite notifica quando la tua S-Cross, guidata da un altro conducente, entra o esce dall'area che hai impostato e nell'orario che hai stabilito. 2. Per rimanere sempre informato, hai anche a disposizione il coprifuoco, grazie alla quale puoi ricevere una notifica quando l'auto, guidata da un altro conducente, non risulta all'interno di una determinata area che hai impostato e in un determinato orario. 3. Suzuki Connect ti avvisa con una notifica se l'auto viene forzata e viene attivato l'antifurto. 4. Per aumentare la sicurezza della tua Suzuki, è possibile impostare orari in cui non si prevede di utilizzare l'auto, ad esempio quando si dorme o si è al lavoro. Suzuki Connect ti invierà una notifica quando il motore viene avviato in questi orari. 5. Se una spia si accende, riceverai una notifica sul tuo smartphone. Con Suzuki Connect è possibile utilizzare l'app anche per chiamare direttamente il tuo concessionario di riferimento o richiedere l'assistenza stradale Suzuki. Se non l'hai ancora fatto, rivolgiti alla tua concessionaria Suzuki di riferimento per procedere con l'installazione e non perderti tutti i vantaggi dell'auto connessa.